Parliamo di profumi low cost, assolutamente buoni e originali. Buonasera, buonasera a tutte e a tutti. Atmosfera natalizia, sapete che comunque io sotto Natale sono solita a parlare ancora di più di profumi, di quello che non faccio comunque durante l'anno. Quindi stasera voglio parlarvi comunque di una novità, voglio parlarvi di novità profumate che ho scoperto comunque ultimamente. Allora, questi sono tutti acquisti che io ho fatto al DM e sono acquisti che ho fatto, oggi è il 2 dicembre, io li ho fatti, non al DM vicino a casa mia io, perché il DM più vicino è a Bologna, ma io questi acquisti li ho fatti al DM di Rimini, quando avete visto comunque anche le mie dirette dell'ultima volta che io sono stata comunque al mare. Prima che comunque l'Emilia diventasse zona arancione, io ho fatto questo giro al mare con il camper e ho comprato queste cose. Ho mostrato più o meno metà novembre questi profumi tutti su Instagram, trovate le stories, salvate in evidenza. Se non siete iscritti a Instagram oppure semplicemente non mi seguite, fatelo, sono Miss Trattino Basso Tenerelli. Questo ve lo dico perché io spesso e volentieri, a parte il dare codici sconto in anteprima a volte se li trovo, ma non perché li concedano a me, magari vengo a sapere di e ve lo dico eccetera eccetera, vi mostro sempre in anteprima questi profumi, no? Questi profumi in particolare, uno ha fatto un particolare successo per qualche canale YouTube, per Instagram, gruppi eccetera eccetera e quindi presumo sia piaciuto. Niente, io direi di cominciare subitissimo perché ci sono tantissimi profumi che vi voglio far vedere. Allora, il primissimo profumo che vi faccio vedere è questo di Jeanne en Provence e vi voglio far vedere il pack perché per me è qualche cosa di, non lo so, straordinario. Cioè, il rosa, le rose che comunque sono sciab, così sciabbi, così romantiche, le righe e il cammeo disegnato mi hanno fatto innamorare di questo profumo talmente tanto che volevo sentirlo per forza, ma soprattutto mi è piaciuto tantissimo una volta sentito. Allora, questo è il profumo in sé, vi faccio vedere il pack perché io penso che sia tra i pack più belli che io ho, poi va a gusti personali, ma per me è così. Questo color rosa, comunque dovuto dal liquido interno, vedete che comunque ne ho già usato abbastanza, questo cammeo in rilievo a me sono piaciuti tantissimo. Questo profumo si chiama Ammatin d'Alla Roserie, cioè quindi un mattino nel roseto, no? È un profumo che è alla rosa, ovviamente. Io lo dico spesso nei video di avere questo rapporto strano con la rosa, nel senso che a me non piace di norma, di profumi dedicati alla rosa io non ne ho tantissimi, però questo è un profumo leggermente diverso perché è un profumo che è una rosa molto, molto talcata, molto saponosa, no? Sa di saponetta la rosa, sa di pulito, sa di, anche qui c'è quel sentore leggermente vintage, no? Secondo me comunque è la rosa che ha questo allure intorno a sé un pochino vintage e quindi è un profumo che mi piace moltissimo perché ha questa sensazione leggermente saponosa, leggermente talcata, vi dicevo, leggermente muschiata anche, che me lo fa piacere tantissimo, ma soprattutto sono innamoratissima di questo profumo perché ho comunque scoperto col tempo che questo profumo è in grado di darmi una forte sensazione di benessere, di serenità, infatti è un profumo che amo tantissimo indossare, una volta fatta la doccia, quando torno a casa, soprattutto quando sono uscita, sono stata fuori, sai, in mezzo alla gente, il traffico, lo stress anche del periodo, questo profumo mi rasserena, quindi mi concilia il sonno, è una cosa particolare che mi succede comunque, a Matin d'Alla Roserie di Jeanne in Provence è un profumo che io assolutamente vi consiglio, ha una persistenza intorno alle due ore, non è molto persistente, però insomma questo è uno di quelli che ho pagato di più perché l'ho pagato 11 euro, sono 60 ml di prodotto. Parliamo poi di un altro profumo che vi ha fatto impazzire, vi ripeto, non solo voi che mi seguite, cioè da follower, ma anche altri, e sto parlando di questo di Jeanne Artès, Boom Vanille Sapome d'Amour, questo profumo io ve l'ho mostrato, come vi dicevo, l'ho trovato nelle stories in evidenza, su Instagram, mostrandovi una serie di altri profumi e siete letteralmente impazzite, perché alcuni di voi lo hanno ordinato, perché si trova comunque in vari siti, fra cui Notino, ma era in offertissima, appunto dal DM a poco più di 6 euro, e sono 100 ml di prodotto, ha questa boccettina che ricorda proprio la mela, con comunque inciso, in rilievo, la scritta Boom, e questo profumo è un profumo che è meraviglioso. Allora già comunque dal pack c'è una sorta di descrizione, scritta in inglese e scritta in francese, comunque è un attimo il mondo dell'infanzia, del circo, di questi sentori, di questi profumi, c'è questa mela caramellata, questo profumo è assolutamente delizioso, ragazzi per 6 euro è imperdibile, vi dico la verità, ha una persistenza che secondo me sarà intorno all'ora e mezzo, perché veramente è da rispuzzare, però per il prezzo che ha, c'è questo sentore di mela caramellata, dolce, che è qualche cosa di delizioso, assolutamente non stucchevole perché la mela rende tutto molto molto più delicato e questo profumo a me ha fatto venire alla mente ricordi ben precisi, uno è quello legato alla mia infanzia, sapete che comunque le riminiscenze della nostra infanzia, adolescenza, comunque del nostro passato, sono quelle che comunque secondo me si riversano nei profumi che noi andiamo a cercare, quelli che amiamo, secondo il mio punto di vista, appunto questo profumo mi ha ricordato le mie estati in vacanza, io sono emiliana e quindi andavo in Romagna a fare le vacanze, qui di Rimini-Liccione, allora non c'erano tutte le norme igieniche che ci sono ora, ma c'era questo carretto che passava con questo omino che vendeva la frutta caramellata, quindi vendeva questi spiedini di frutta, spesso e volentieri erano uva, papà e la mia mamma mi compravano sempre questo spiedino di uva che non era altro che chicchi di uva caramellati nello zucchero, vedere la merenda di un sacco di bambini in quell'epoca e vendevano anche questo stecchino con questa mela rossa caramellata che i miei non mi hanno quasi mai comprato perché era veramente grande come merenda, ma un paio di volte sì, quindi questo odore mi ricorda tantissimo questa cosa, è veramente delizioso, vi ripeto, ho visto che è stato apprezzato molto, ha ragion veduta perché è veramente molto 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 buono, se lo trovate, ma vi dico, su Notino deve essere intorno ai 9 euro, ve l'ho visto, comunque anche lì ci sono spesso e volentieri delle offerte, se lo trovate prendetelo perché per quel prezzo, 100 ml, un profumo così buono, veramente vale la pena, poi vi faccio vedere un altro profumo che ho propagato sempre intorno ai 6 euro e 90 circa, parliamo anche qui di 100 ml, Jean-Louis Gadi, o sì, o Gadi, e parliamo del Vanille, eccolo qua, io vi ho lasciato anche i pack che adesso comunque farò sparire, questo profumo è un profumo delizioso, anche qui io ve ne ho già parlato su IG, è un profumo buonissimo, allora il pack è questo qua, anche questi sono 100 ml, anche questo ha una persistenza direi, anche qui siamo intorno alle 2 ore, è proprio un profumo veramente delizioso, io appena l'ho spruzzato, me ne sono quasi subito innamorata, questo profumo lo trovate comunque anche in altri siti, c'è da Douglas, però costa di più, costa intorno agli 11 euro, comunque 12 euro, anche lì ci sono spesso offerte, ma comunque vi dico che per il prezzo che ha, è molto buono, perché questo profumo sa esattamente di zucchero filato, non zucchero filato stile acquolina, quindi non c'è quella nota fastidiosa di liquirizia, che c'è comunque all'interno di acquolina, pink sugar, che non mi piace, qui c'è proprio lo zucchero filato stile, comunque chi ha della farmacia Santissima Annunziata, ecco, quegli zuccheri filati molto molto baby, molto rosa, non so come definire, molto puliti, molto freschi, sono dolci, ma freschi, è quella sensazione quasi di pelle di bambino, no? Sa proprio di zucchero filato, è delizioso, anche questo ha una persistenza, come vi dicevo, abbastanza evanescente, ma 100 ml di prodotto vale la pena averlo, perché vale la pena comunque rispruzzarlo, il piacere anche di rispruzzarsi, un profumo durante la giornata, quando comunque a cuor sereno, si è pagato insomma una cifra del genere, secondo me è molto piacevole. Ultimissimo profumo, non è una scoperta al brand, perché comunque ovviamente io già lo conoscevo, ma lo conoscete tutti, e sto parlando di Monotem, o Monotim, non so come si pronunci, e sto parlando però di un profumo che io avevo sempre voluto sentire, ma non ero mai riuscita a sentire, sto parlando di Almond, quindi la mandorla di Monotem, io me ne sono innamorata subito, anche questo l'ho pagato un po' di più degli altri, nel senso che l'ho pagato come il profumo Ammatem dalla Rosierie, l'ho pagato 11 euro, e quindi insomma leggermente più costoso, se così vogliamo dire per 100 ml, pack classico, comunque solito di Monotem, o Monotim, mi piace Monotem a me però, ha questo colore un po' brunito, vedete, mi piace moltissimo, le boccette di Monotem sono sempre molto cheap, per quanto riguarda i materiali, però da vedere, secondo me fanno sempre molto bella figura, ecco perché io, non me lo spruzzo perché ho spruzzato altri profumi, mi sono innamorata di questo profumo, perché per me sa di burro cacao, proprio al profumo del burro cacao, punto, non si può dire altro, è proprio delizioso, avete presente quei burro cacaoni, cioè, non ai vari gusti, cioè alla fragola, alla ciliegia, no quelli proprio classici però che andavano tanto negli anni 90, negli anni 90 io avevo tantissime amiche che li collezionavano i burro cacao, mi ricordo, che dovunque andavano in giro, anche per l'Europa, cercavano dei burro cacao particolari, proprio perché li collezionavano, ecco, alcuni burro cacao, ma anche i labello, adesso hanno un odore molto meno, perché può essere fastidioso effettivamente, sulle labbra, un odore così intenso, ecco, l'odore dei labello, o forse anche leocremano, io non ricordo più che marche ci fossero, di quelli tipo classici però, avevano questo odore preciso, quindi se avete in mente un po' quel sentore così cremoso, di burro di cacao, che comunque si sentiva, no, prima nei burro cacao, quelli insomma, quando ancora non si badava all'inci, ecco, questo fa il caso vostro, perché è veramente ottimo, anche qui andiamo su una durata intorno alle due ore, non di più, ma anche qui possiamo, molto a mente serena, spruzzarcelo quando vogliamo, allora, io ragazzi, ho già finito qua con le mie novità profumate, a bassissimo costo, spero che vi siano piaciute, invito di nuovo, ad iscrivervi comunque, al mio Instagram, alla mia pagina Instagram, al mio profilo Instagram, perché, comunque lì, in anteprima vedete sempre tutte quante le novità, adesso io vi ringrazio, vi saluto come sempre, noi ci vediamo prestissimo, ciao ciao! a Grazie per la visione!